un certo livello ok via le ire raccomando non mira prima hai ragione già anche sbagliato a me non sono bene no ragazzi non togliamo niente non è vero vogliamo un po contanto che è spammabile si è fattibile sì però stammabile quanto vuoi ma siamo limitati come sempre io vado a questa acqua io sono al nord ma ci voglio fa un geyser ognuno fa si prende un geyser io ho detto io sono morto perché non si sta mettendo questo la chiara ci sono i rubani no 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 perché ho fatto di prenderai un bello e non c'è per quello ahahahah ti prego per me è che ci stanno solo tre geyser ah e quindi uno deve prenderne due io prendo quello di est c'è ne sono tre quindi uno ne prende due va bene ahahah c'è due ne prendono una vabbè ho chi ce l'ha lo prende dai va andiamo insieme no me l'hai rubato rip no rip mettete un sacco di curative davanti ai geyser così che a parte che siamo tutti scherzi come te che non lo sappiamo però io guarda io dico quasi scontate ma magari per matti non è così tanto scontato ah certo per me questo parte tutto per matti vorrei specificare sì sì niente son morto perchè è esponata la meteora sopra a ra eh occhiale te l'ha detto ti ho detto se ci avevamo adesso le le curative accanto ai geyser tu non saresti morto sono già morto ti sono sicuro e vedi no ma già in sera no 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 vabbè già in sera che cosa bene prendiamolo aspetta un attimo no 51mila di vita no più che altro perchè l'ho messo sopra il geyser occhio a ora occhio bene 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 però io direi nella nuova patch un geyser in più nel re eh speriamo eh ma io ho fatto sempre quando questo fa il coso non riesco a mezzare nessuna per il fumogeno è la seconda volta ah ora vuoi sottare insieme e io ti lascio qua non posso rinunere laura sta facendo avanti ai miei apparecchi ma 48mila fa no devo vedere quanto fa ma questa che ci sono tutte le curative proprio bello bello quella situazione quando ci passa sempre l'idea di mezzini mi ha messo mi ha messo mi ha messo io ho messo il king aurora guarda che napoletano ti giuro ma non me l'avevi detto che è napoletano fra una tacchetta abbiamo fatto ti giuro prego sto facendo veramente molto con l'altro anch'io sai no io no me va benissimo così non è più divertente no ho preso la verana ma vabbè guarda un parlo ascolta matti posso dare un attimo dire per le cittadini del cozzo no si 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 mi sembra anche odio venghi matti venghi devi fare un'idea di 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 unico ma non c'è non è stato molto più danni di un'idea di unico no comunque c'è un molto più danni di un'idea di unico vedo chiara. perchè non ho spummato bene di pedane ma è no però basta ok e niente c'è te cassè mi vuole io amo so che ho insieme ma non è che coordinazione normale buona quali momenti sembra che ci togliamo di più alcuni meno e mi dipende come lo becchi fra normale e poi dipende come me che salti sempre quando anche io sto a 4 veramente si le sto contando ma non serve che le conti tu ci sono già io ora aspettami aiaioio 3,2,1 faccio un po' venga matti venga non si può che ti chiedeva ho sempre qua moria perchè questo è il mio punto preferito ah bene bene ah mo non me la robi più ah mo rimane da prendere seconda io prendo la scatola di scorta ma la scatola di scorta ah buona lei non lo so prendi ma a quanto stiamo matti tra quasi metà vita no no a tempo si si che cazzo ne so va bene ho capito hai capito tu hai scolto capito 2 stampe una della poesia e un'altra deve cercare su internet no allora due o 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 due d'infinito no l'infinito già l'ho fatta mmm i miei cagli ma non c'è lì ma non c'è lì mica che mira che ho ragazze mamma mia potete capire troppo forte sono ora perchè è proprio lasciarti qui e prendere il geyser in faccia te ma sti sto tornando tornando a prendere un altro il gaser ovviamente ma se resta sul gaser mentre metà vita raggiunta franto a 5 ma che bastardo ma ho l'asco non l'ho messo l'ho messo l'ho messo e anche un momento c'è rimasto la fisica mamma come matti non è stato io e ha dato il merito a matti la prossima volta non ti resta tutto la vita guarda come l'arca no ragazzi no perché matti libero ma ho maggiori non credo comunque credo che ibrido aumenta di uno però non ne sono sicura vabbè uno meglio niente no guardiamo insieme perchè ognuno che prende per conto suo perchè non si può fare insieme a poco troppo io sto facendo 70 divina la partita scorso colpa di occhiala ma matti è lì da con prende ma guardate le meteore bellissime le meteore ragazzi voi non potete capire le meteore non potete capire meteore so è matti sto qua no ma non potete proprio capire no è un poverete rami dal mio video è una cosa bellissima non ha in cuore ma io ma si può fare insieme si che si può fare insieme allora tutti i vicini salziamo tutti allo stesso tempo vai 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 venite venite tutti qua un raggio perdiamo un raggio perdiamo o perdevo con onore va tutti da... eh si che facciamo tutti da qua aspettate tutti quanti qui però dovete aspettare che mi si ricarichi non mi si può cambiare tutti quanti qui al principale matti dove sei i'm coming bro raggio ecco qua l'ho chiamato matti ma che commissione hai ma infatti vado a fondamentale bando vai pronti 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 aspettatemi tardi no no è tardi te lo sei preso da sola eh lo so eh perchè già stava sfruttando proprio tu bro eh chi è che ha sparato un colpo di ira al re nessuno sto sparando io ai cose eh lo è più da anche il re matti hai colpito anche il re no si è l'obb fra sono qua sono come faccio da qua e poi non lo stavo... beh non arriva il colpo fra non è vero non è possibile occhiali non è vero giusto si si è un secondo grazie siamo a 6 ma allora i'm coming bro io adesso andremo lo picchio frati giuro guarda adesso li ammatti almeno guarda sono qua sono ma ho visto dio è abbastanza vada io che è la botta vada io che è la botta ma vuoi se non voglio stare qua vado dei giorni guarda cosa fa ma allora no dai ti voglio bene 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 ma adesso è l'amico di tutti guarda atti sei mocello gentile guarda guarda prendi Kaiser quando fai le mani già esatto che mi no fa 12.000 ragazzi fa 12.000 come ogni volta niente mattini dai qua sono io no dai non è vero occhiali giunti no 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 non è vero quanti cazzo di zombe mamma mi è finita l'era sono sono stato picchiato troppo ma il secondo geyser di fila che mi rubate che ti rubate già appartiene è una gara di una bolletana che poi il geyser va tirato anche bene perché il geyser può andare no vabbè ma si lancia anche va anche di lato tant'è che se fai un salto davanti a una finestra sono il mambo e poi fai il tu muoce quello va dall'altra parte della finestra Alessandro viene dove vai ah no io sono un po' ritagato ci sono io oh occhiale non mi devi sempre stilare il racing bro bro dall'esperienza alessare ne sono sicuro su battle è così di conseguenza guarda non ci spero che anche che adesso andremo a mi resti aspetta ti vengo a dare un cuoricino dove sei non ho affare in culo tanto c'ho il mio occhiale che mi resta se voi non potete capire le meteore ragazzi le meteore sono tutte buggate bro dai non voglio stare qui altri due giorni niente occhiale ah 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 cosa è successo cosa è successo cosa è successo io adesso dai ho curato più persone di quante gente ho curato così tante persone che mi merita di essere restato almeno una volta dove sei dove sei dove sei devo buttare non è che ti vuole ma perché avevo una ma 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 non è che cose mistiche che mi vuole bene l'ho curato 95 volte sì non sa che sto vedando sopra il re no vabbè mi hai visto matti sì no stavo prendendo la scala per la salida di prima ma lolla c se io però non ho una brutta idea aspetta è bellissima vabbè quando non c'è un geyser tipo tu che sei sfigato che te lo intaccano sempre no ma non ha senso regga non ha senso no vero vero non sono materiali ma ero rimasto a challenge di tri comunque era messo la carità guarda c'è un senso assurdo guarda sono pure più grande mattia quanto lei ha l'aventura 70 tipo già va meglio vabbè fra ma basta che vai a vedere nel gruppo del team c'è gente che le ha al 140 veramente sono morto regga se magari scrivi un po' nel gruppo frango ci sta di tutto chi duplica chi ha l'aventura 140 apposta vede devo fare il coricino matto e poi me ne andavo tutti questi parecchigli ah fa un bravo ma non c'è mettere un po' insieme grande ah va bene ah va bene ah va bene ah va bene no vedete come primario comunque è buono questo chi lo finirà questo hop no ma se mi riascate ma anche questo è primo al mondo e beh tutto quello che facciamo siamo primi al mondo il mondo è scarso allora il mondo è scarso il mondo è veramente messo male chi lo finirà prima ora questo è il dilemma qualcuno che venga guardate le meteore ti fa morire a me le meteore ragazzi lo facciamo a repullare? anche no vai lo facciamo oh prima al mondo facciamo repullare e te lo riuscirò ma si giusto così siamo già prima al mondo così poi è un dopo prima al mondo aspetta perché guadagna la vita? eh se siamo curati se ci mettiamo curatrice sì adesso falla abbiamo fatto un mondo aspetta no sono rimorto due passi dopo no no matti dai non c'è niente da fare non hai scusa mi sa che mi c'è da io mi sa che mi c'è da io un posto un posto un posto eh vabbè la resterò qui dai godolo fatto io vaffanculo cg 20 g 20 g 30 g 30 g cg bro no no di nuovo vi prego no vai sottina il sfumo è il vostro cura chiede sono 10 e 10 minchè è durata 40 minuti in circa credo sì ma in un'ora fare due sfide però non mai perdere perché ci sono io gg 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 poi matti hai mai visto la mia bambina?